nel posticipo domenicale terza vittoria in fila per pesaro che regola varese nonostante l'assenza di taylor kane sotto le planche ottimamente sostituito dalla presenza di filippo viti senza il proprio totem d'area coach ripesa si affida al perimetro trascinato dai 22 punti di justin robinson dopo john mattis altro non può fare che restare aggrappata i 22 punti del proprio leader scola ma la quinta sconfitta in stagione apre una crisi ormai nera